La protezione civile di Buccine è intervenuta questa mattina all'incontro per il coordinamento valdarnese relativo alle questioni del terremoto. Partenza non ancora effettuata poiché appunto in quelle terre occorre innanzitutto un aiuto costante ed è già avviato però l'inserimento temporale della racchetta. Predisposti comunque tutti i mezzi a disposizione. Siamo in attesa di partire perché giustamente dobbiamo scaglionare le risorse per arrivare a qualche mese di distanza. In compenso siamo in contatto anche col Dipartimento della protezione civile e con la provincia di Arezzo per le eventuali necessità che possono nascere dalle esigenze specifiche. La regione toscana ha già allestito i suoi due campi e in base anche alle loro esigenze ci muoveremo di conseguenza. E del resto come confermato ancora una volta dalle singole associazioni di volontariato le emergenze riguardano soprattutto il trasporto in località sicure di persone e cose. La regione toscana ha già avviato il risultato che possono nascere delle persone che possono nascere delle persone che possono nascerebbe. Grazie.